centralina seletro riprogrammabile, chapa chi? filtri aria, pannellino, questo qua, kit aspirazione diretta KM, va bene, sound booster? ce l'ho, molle, ammortizzatori, delle belle eibac, pro kit, ok, e un bel ammortizzatore beast in B8, scarico, remus, sport exhaust, pedal booster, chapa chi? hai proprio tutto, 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 po cazzo sono 32 anni che facciamo sto lavoro siamo i re del turni, cosa devo dirti? non mi agire